E ora, pover Improbabili! Il pianoforte si suona con le mani. Al limite abbiamo visto suonare il pianoforte a quattro mani. Ma puoi suonarlo bene con i piedi? Voi non ci credete? E allora guardate il pianoforte suonato con i piedi. Grande piano, guardate. Bravi! Allora, attenzione. Primo motivo. Vediamo chi è più veloce a scrivere correttamente l'interprete. Prego ragazzi. Il famoso pezzo di un gruppo. Non vi dico niente, non vi dico di più. Un gruppo. Ciao! Dilla verità! Hai sbagliato! No! It's on fire! Tandao! Bravi! Maravissima! Allora, e questa volta ciao ve l'hanno fatto loro. Sempre che abbiano indovinato. La musica svedese! Musica svedese, brava! Il famoso Joy Tempest! Io scioglio gli stessi capelli. Cosa vede scritto? Europe! Europe è giusto! Facciamo il show, ciao! Musica svedese, brava! Musica svedese, brava! Musica svedese, brava! Musica svedese, brava! Bello, it's just finally a countdown, un grande successo del 1986 alla Gione e Filippa, ricordi proprio questi capelli ricci, biondi e il punto è posto, erano lunghi, erano lunghi, ricci, lunghi, biondi, faceva sempre così con la chitarra, wow, wow. Ho capito la vostra tattica, 6 a 2, attenzione, ragazzi siete pronti e allora andiamo di grande piano, secondo pezzo, prego. Siamo all'inizio, ma in fondo a un gioco. Ma hai notato come la vittoria ha ringalluzzito Cesare, bravo Cesare, perché avete scritto... Bennato! Bennato, Bennato! Bravi, bravi! Ragazzi, stanno arrivando, eh, 6 a 4, attenzione anche a casa, sempre i nostri ragazzi di grande piano, questo, ah beh, questa, dico solo questo, è la storia della musica, non dico altro, prego ragazzi. Nei, 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 nei! Magn Ya, no, 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 no! Eh no, 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 non ho scritto. Signori della corte, bravi, bravi, bravi. Signori della corte, non ha scritto. Come me prima, come me non ho scritto. Non ha scritto. Ma pure il dito di assidio adesso non funziona più. Si è scaricato. Non lo sa. Voi siete stati più veloci e avete scritto, ovviamente, Beatle. Che c'ha scritto? Che c'è quella roba? Che c'ha scritto? L'ho messo al singolare. Beatle, infatti, infatti, Beatle non lo possiamo accettare perché manca la è. e invece la S è fondamentale. Non lo possiamo accettare. Non lo possiamo accettare. Con un po' di scena. I due punti vanno alla squadra di Sergio Azizio e Del Vito. Do you think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. That you she's thinking of. And she got me in love. Bravo! Che c'è giusto? Un Beatles e dobbiamo scrivere la S. Non si può. Scusa, vogliamo dire una cosa. Come provano comunque loro a barare? Perché hanno detto che non era partito il coso. Toglietelo il microfono a Scanu, toglietelo. Fermi, sei pari. E pensate che vinceranno solo un disco di plastica. Figuratevi se la dono, veramente. Grazie ai nostri amici, ai nostri musicisti bravissimi che suonano nel pianoforte meravigliosamente bene con i piedi e che torneranno ancora a Music Quiz.